Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati qui sul Brawl Stars, signori miei, allora per questa settimana usciranno dei video di Brawl Stars ogni giorno alle 7, almeno più sicuro fino a domenica, dopodiché settimana prossima decideremo come organizzarci, se continuare a fare un episodio al giorno oppure se magari alternarlo un giorno sì, un giorno no, oppure non lo so, comunque c'è un sondaggio nella community della mia pagina in cui potete lasciare la vostra preferenza oppure scrivetelo nei commenti se volete sempre un video al giorno oppure no. Detto questo ragazzoli, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie, vi piace e mi piace giocarci, sinceramente ho scoperto un gioco che non ho considerato così carino, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite Paypal, trovate comunque il link per fare tutto l'ambaratana che vi ho detto allora in descrizione al video, detto questo partiamo. Ok ragazzoli, noi siamo qui con il nostro Little Tony e allora io intanto ho una richiesta d'amicizia e andiamo a vedere chi è Spike, io accetto senza problemi, non ho problemi ad accettare le richieste d'amicizia raga, vedete il mio ID a sinistra, quindi chi voglia aggiungermi, mi sei impappinata la lingua, lo può fare tranquillamente. Allora ragazzoli abbiamo nel negozio un qualcosa di gratuito che noi ci andiamo a prendere subito, no, no, io voglio la cassa gratuita, spettacolo, dammi la cassa, dammi la cassa, dai dai dai, che mi fai a trovare? 19 monete d'oro, non ci fa nulla, poi punti di energia per il Pocho, grande Pocho, che sta salendo senza che noi lo utilizziamo, punti di energia anche per il nostro Super Saiyan Shelly, che sale a 38 su 80, va bene, va bene, dai. Mi aspettavo qualcosa di meglio in questa cassa, ma ha fatto un po' schifo, allora noi abbiamo 347 monete d'oro, io quasi quasi prendo dei punti per potenziare il nostro Little Tony, bravo, così, anche se non serve, uh, lo possiamo migliorare, meno male, il Little Tony lo possiamo migliorare, 10 per migliorare il Messicano Pazzo, dai, è così, così vediamo un attimino di, no, non riusciamo ad arrivare a, e anche il nostro Orso Yogi lo andiamo a migliorare un attimino, Vediamo se, no, no, lui non riesce a salire di livello, però va bene, abbiamo comprato cose interessanti, qui ci sono tantissime altre cose interessanti, ma ci vogliono le monete verdi, e noi ne abbiamo solamente 20, siamo poveri, andiamo su Brawl, andiamo a migliorare il nostro Little Tony, che sale a livello 2, se non sbaglio, grande Little, grande Little Tony, bello così, allora, proprio con Little Tony noi ci andiamo a fare una raffa gemme, dai, è così, andiamo a fare una raffa gemme, poi pigliamo Super Saiyan Shelly, Invece ci andiamo a fare un, un sopravvivenza, raga, intanto vediamo di vincere questo, uh, una nuova mappa, non l'avevo mai fatta questa, siamo dei, dei giganti in mezzo alla città, che cosa carina, sì, ma a me, a me servono le gemme, quindi, poco ai chiacchiere, no, no, tu devi morire male, tu devi morire male, muori, 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 no, mi ha ammazzato, no, sono morto da Shelly, raga, il mio Super Saiyan si è voltato contro di me, e mi ha ucciso, Allora, calma, 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 passiamo qui al parco, allora, mi serve qualcuno che abbia delle gemme da portarmi a casa, yeah, uh, là ci sono delle gemme che sono poverine, poverine, abbandonate, recuperiamole, ok, quante ne abbiamo? 5 a 0, buono così, signori miei, questo, no, 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 siamo messi male, siamo messi male, siamo messi male, siamo messi male, super colpo, super colpo, ammazza, ammazza l'orso Yogi, ammazza l'orso Yogi No, porca miseria Ok, io ho perso le mie gemme, ma se non sbaglio qualcuno le ha recuperate Dai, è così, dai, è così, dai, 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 siamo 4 a 2, come 4 a 2? L'ha morto qualcuno, mannaggia, dovete morire, dovete morire male, dovete morire male No, ma perché muoio io? No, vabbè, dai, Little Tony fa proprio pena, raga Cioè, ce l'ho proprio messo male, Little Tony Siamo 5 gemme a 4, non va per niente bene questa cosa, recuperiamo questi due, dai, dai, ok Ne ho prese due, ne ho prese due, dai che non arriva l'altra, siamo a 6 Dai, è così, quello non c'è nemmeno una gemma Ma guarda che stai andando a pigliare con me, ma perché stai andando a pigliare con me? No, 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 mi sono andato a ammazzare, signorini miei Mi sono andato a buttare proprio su per loro braccia, ma porca miseria No, con dell'arriza per i rossi, no, 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 non va bene Questa cosa non va bene, questa cosa non va bene, questa cosa non va bene Uccidi, 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 ok Ricopriamo, ricopriamo le gemme No, 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 com'è che ne ha 12 Uccidilo, 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 uccidilo Uccidilo, uccidilo Superscolpo, fai qua Ok, ok, calma, 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 calma Vietteltoni, torna giù, torna giù Gemma a volontà, gemma a volontà, gemma a volontà Ok, 9, ne abbiamo 9, loro ne hanno 8 Ce ne serve una per il conto alla roveccia Dammi una, dai, 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 ok Ne abbiamo 10 Raga, 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 difesa, difesa, difesa No, porca miseria Mannaggia, sei conto alla roveccia per i rossi Non devono vincere nemmeno, ma è qua il rossi Uccidilo, bello, così Recupera tutte le gemme No, l'orso Mamma mia 11, via, 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 io ne ho 7 Devo scappare, raga Devo scappare, devo scappare No, 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 sono morto Ma porca, sono morto Mannaggia, è finita È finita, combattutissima, raga Combattutissima Ma è finita No, no, hanno perso tutte le gemme Anche loro Mamma mia, che gran cacciara Che è successo, raga Non ne sto capendo nulla L'orso gli oghi L'orso gli oghi ha rotto le scatole Signorini, l'orso gli oghi ha decisamente rotto le scatole Sono morto, però forse la mia squadra riesce a vincere Dai, 12 a 11 È finita 12 a 11, abbiamo vinto noi Non so come Non so per quale volontà divina Ma abbiamo vinto noi, raga Bella così Il nostro piccolo orso gli oghi ha battuto loro C'è uno che si chiama Murillo Murillo Ma ha copiato il nick, quasi È il nostro bello, Little Tony Va bene così Ha fatto un po' schifo Little Però va bene Uh, più gettoni per noi Bella così Va bene, va bene Coppa per noi Arriviamo a 136 E a 118 per il prossimo pass Eh, 9-20 Come 9-20? Che vuol dire? Ma perché questi Ma perché? Ogni volta mi fanno Arraffagemme Piattaforma di lancio E terra Allora, facciamo una cosa Andiamoci a fare un altro arraffagemme con lui, raga Speriamo che questa volta Sia più facile Sia più facile Abbiamo due robot in squadra con noi Dai così, dai così Dai così Dai, 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 dai Dai, raga, dai, raga Veloci, 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 veloci Siamo partiti dal lato giusto Siamo partiti dal lato giusto Già ho afferrato due gemme Bella così, bella così Già due gemme per noi Due gemme per noi Dammi che... Dai, 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 dai Mamma, che c'è sta qua, raga Allora, c'ho il remistirio che mi sta inseguendo Il remistirio ha preso una gemma e mi sta inseguendo No, adesso non mi seguo più Calma, calma, calma Calma, stiamo a tre gemme a zero Tre gemme a zero Sono finito in mezzo all'acido Ok Dai, che questa la pio io Ok Cinque gemme a zero Dai, 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 dai Che questa la pio pure io Lottatore resting Lottatore resting È pericoloso Leva di dall'acido Sei a zero Siamo, raga Bella così Devo recuperare vita Devo recuperare vita Sono messo malissimo Sono messo malissimo Recupera vita Recupera vita Ok Perfetto Otto gemme a zero Otto gemme a zero Dai, 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 dai Mamma mia No, 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 no Sono messo male Sono messo male Giusto, giusto Sono messo malissimo Recupera quella gemme Nove gemme a zero Dai così Dai così Mamma mia Che cacciare Ma che è sta cacciare, raga Lottatore resting Dai, dai, dai Recupera, recupera Bello così Contra la rovescia Contra la rovescia Contra la rovescia Dammi la gemma Dammi la gemma Dammi la gemma Troppe bombe Sono morto Ma sono un pirla, raga Sono un pirla Per prendere una gemma Ho messo a repentaglio La vittoria, raga Per prendere una gemma Per prendere una dannatissima gemma Ho messo a repentaglio La vittoria Contra la rovescia Però dai, 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 dai Ok L'ho presa io questa, raga L'ho presa io Ne ho due Ne ho due Ne ho due Ne ho due L'ha ce n'è una L'ha ce n'è una L'ha ce n'è una L'ha ce n'è una Dai, 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 dai Oh signor wrestler 14 a 0 Mamma che squadrone Che siamo, raga 14 a 0 è bellissimo 14 a 0 è bellissimo Partito concluso 15 a 0 Non c'è stata storia, raga Il migliore è stato BH Il robot vestito da gnomo Terribile Col peluche in mano Però va bene E' andata bene così Ci siamo portati a casa la vittoria 56 su 60 Tante belle monete per noi Questa volta non mi ha dato il raddoppia Però va bene Allora Coppe per noi Saliamo a 144 Andiamo a 178 brawl pass Va bene ragazzoli Allora Io ho detto questo Mi fermerei qui Per questo video Vi ringrazio per aver guardato questo Questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Grazie a tutti.